Come sta fetta tutto questo, compreso qui, anche da questa parte, fino ad Albinea andavo in bicicletta. Il nome di battaglia, Anuska, me l'ha proposto un compagno partigiano che poi è diventato comandante. Mia madre era una donna speciale, che io mi ricordo sempre che diceva la disgrazia più grossa è nascere donna, perché le donne non contano niente, sono più fortunati quelli che nascono gatto, ormai gli ho fortunato. E io questa cosa del gatto, che ero abbastanza piccola, me la ricordo, come anche un'offesa perché dicevo io sono donna. E poi invece le donne hanno fatto la resistenza? Altro che se hanno fatto la resistenza, l'abbiamo fatta tutti noi, io che avevo 16 anni. Senza le donne non si sarebbe potuta fare la resistenza. Le donne erano il telegrafo, il telefono, la radio, l'infermiera, la vivandiera, oltre a essere la staffetta o l'accompagnatrice. Io dovevo accompagnare non un bigliettino nascosto, ma una persona vera che veniva dietro e bisognava mettersi d'accordo con i segnali. E io dovevo anche informarmi, fermarmi alle case o ai ragazzini che erano in giro per chiedere se avevano visto dei posti di blocco. Staffetta è molto riduttivo perché sembra che vai sempre avanti e indietro così. Invece avevo anche degli obblighi di organizzazione. Io andavo in giro a fare le piccole riunioni di donne, 4-5, spiegare quello che volevamo per dopo, gli ideali. I diritti delle donne, perché in quel periodo le donne erano a casa a dirigere l'azienda oppure in fabbrica al posto degli operai. E nello stesso bancone col ragazzo di 16 anni e loro prendevano molto di meno perché era stipendio da donne. Che senso ha oggi parlare del valore della resistenza? Penso che non interessi a un granché. Penso che la gente pensa sì hanno un combattuto. Però sapere tutto quello che abbiamo sofferto, che la gente ha sofferto, forse dovrebbe creare un po' di allarme. Perché non è detto che qualcosa di simile possa ritornare o non ritornare. Questo che sta succedendo nel mondo, che abbiamo tre guerre. Ma perché l'umanità si fa imbrogliare così e si fa trascinare nelle guerre? Per distruggere un po' di mondo e poi guadagnare per ricostruirlo.